A quei 5 secondi in cui chiudi gli occhi e dici c'è ancora qualcosa che posso dare, alle volte sono fondamentali. Diventa quasi una droga della quale non puoi più fare a meno. Li vai a cercare ovunque a quei 5 secondi. Ma quello che mi ha stupito è che uno fa un Ironman, finisce la gara, arriva che è demolito e la cosa che ha fatto si è tuffato in acqua e ha fatto due bracciate per rilassarsi.